Terza e ultima puntata che dedichiamo, come un piccolo speciale, a una tragedia a volte dimenticata, almeno da noi in Italia e da tanti altri stati, ma ancora viva nella memoria dei nostri cugini d'Oltralpe, i francesi. La tragedia della Marine Nazionale, una tragedia che fotografa a tutto tondo le contraddizioni, le difficoltà di una potenza che emergerà vincitrice dalla Seconda Guerra Mondiale, ma che ha vissuto tante spaccature e tanti cambi di fronte, oltre a delle perdite traumatiche di uomini e di materiale. Della tragedia Marine Nazionale abbiamo già parlato per il colpo al cuore di Mers al-Kabir, la decisione degli inglesi di intervenire distruggendo parte della flotta, e della decisione, oltre due anni dopo, delle navi superstiti di autoaffondarsi. Nel mezzo c'è una figura, la figura di un uomo, di un alto ufficiale, l'uomo che doveva guidare la Marine Nazionale e che fu costretto, dalle circostanze della storia, a rivedere anche parte dei propri valori, del proprio credo politico, sperando di salvare il salvabile di una nazione sconfitta e che vide ridimensionare la tradizionale grandeur. Un uomo di nome François Darlane. Amiral della Flotte, questo è il titolo onorifico che a partire dal 6 giugno del 1939 riveste François Darlane, un ufficiale che ha dedicato la sua intera esistenza alla marinara francese. Un uomo nato in una famiglia di tradizioni repubblicane e socialiste, tant'è vero che il suo bisnonno era stato un napoleonico, aveva combattuto anche lui in marina, era morto nella battaglia di Rafalga. Suo padre, Jean-Baptiste Darlane, membro del partito repubblicano, radicale e radicale socialista, era stato ministro della giustizia nel governo Melin e era stato testimone di quello scandalo, lo scandalo dell'affaire Dreyfus, che aveva minato nelle fondamenta la Repubblica Francese, al punto che lo stesso Jean-Baptiste Darlane, in polemica, si era schierato in maniera molto diversa rispetto all'esecutivo, prendendo le difese dell'ufficiale d'artiglieria assaziano ed ebreo accusato di aver tradito il proprio paese, passando segreti militari alla Germania e all'Austria. Sappiamo ormai da tempo che Dreyfus era innocente, che venne incastrato, che fu vittima di un sistema, un sistema politico e sociale permeato di razzismo, antisemitismo e di sospetto nei confronti di chiunque fosse ebreo e assaziano. Dreyfus, che era ebreo ed assaziano al tempo stesso, era il colpevole ideale per nascondere le inefficienze di uno stato maggiore ancora vittima dello spettro di Sedan e che non poteva accettare di scoprire dei tradimenti al proprio interno. Ma quella è un'altra storia, magari un giorno la racconteremo. Darlan è cresciuto in questo ambiente, in una Francia sempre alla ricerca di una rivincita, dopo l'amarezza del crollo del Secondo Impero, quello di Napoleone III, del fallimento della comune di Parigi soffocata nel sangue e dalla ricerca di una nuova vita oltre gli spettri del passato. Darlan era entrato all'Ecole Naval nel 1899, uscendo come guardia marina nel 1901, aveva prestato servizio in Estremo Oriente. Ma durante la Prima Guerra Mondiale non era stato imbarcato, come tanti altri ufficiali di marina, era stato dirottato in terraferma a comandare le parti di artiglieria navale impiegati al fronte, per supportare lo sforzo titanico di contenere i tedeschi lungo la Marla. Ebbene, Darlan aveva combattuto a Verdun, si era distinto sul campo e, terminata la guerra, aveva cominciato a interessarsi di politica, sempre abbracciando i valori familiari, i valori repubblicani, radicali, socialisti, che facevano parte del DNA della famiglia Darlan. Valori che gli avevano permesso anche di fare carriera, tant'è vero che nel 1929 François Darlan era diventato contraammiraglio. Significa che nel giro di 28 anni era passato dal più basso grado degli ufficiali al primo grado degli ammiragli. Tre anni dopo, nel 1932, era diventato viceammiraglio. Poi era passato a comandare la squadra atlantica della Marina Nazionale, la squadra più forte, numericamente più grossa e con le navi migliori. Infine, come abbiamo detto, ammiraglio di flotta, comandante in capo della Marina Nazionale, capo di Stato Maggiore della Marina e con la possibilità di partecipare alle conferenze mondiali e agli incontri internazionali con un ruolo di primo piano, quasi superiore a quello di Ministro della Difesa o comunque di Ministro della Marina, della guerra, nel caso. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, nel settembre del 1939, François Darlan è a capo della Marina Nazionale. Una Marina Nazionale che in quei mesi sostanzialmente si limita a piccoli interventi nei teatri di guerra. Poche sortite, quasi nessuna nella manica. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia ha giusto qualche schermaglia, qualche bombardamento costiero e nulla più. Una Marina Nazionale che perde pochissime navi, perde l'incrociatore Posamine-Pluton per un'esplosione in porto, perde qualche cacciatore pediniere, qualche sommergibile, ma resta intatta. E François Darlan diventa improvvisamente un protagonista sulla scena politica europea. Tant'è vero che quando comunque è chiaro che la Francia non potrà vincere perché invasa dei tedeschi, quando si sviluppa la tragedia di Dunkirk con la necessità di evacuare il corpo di spedizione britannico e i resti delle divisioni francesi e belge intrappolati in una sacca, Darlan viene contattato dagli emissari del governo inglese per capire cosa farà la Francia della sua flotta. Tra quegli emissari c'è anche uno scuro personaggio, un giovane ufficiale di Marina della Royal Navy che lavora al controspionaggio della Marina, diventerà molto famoso nel dopoguerra come romanziere di successo, si chiama Ian Fleming, lui il padre del futuro James Bond. Fleming va a parlare con Darlan, cerca di capire cosa intenda fare. Da Londra gli chiedono di scavare nei pensieri dell'ammiraglio francese per capire se sarà intenzionato ad autoaffondare, a cedere la flotta ai tedeschi e agli italiani, oppure a farla internare da qualche parte. Come abbiamo già detto nel nostro primo video, l'incubo degli inglesi, che dipendono in tutto e per tutto dai rifornimenti che arrivano da oltremare, è che la flotta francese vada a ingrossare le fila avversarie mettendo fine ai commerci. E in quel caso per l'Inghilterra vorrebbe dire morire di fame. L'Inghilterra tutto questo non se lo può permettere, ed è il motivo per cui fa pressione su Darlan, che il 3 giugno, a battaglia di Francia ancora in corso, ma con la sorte ormai segnata, annuncia al governo che è disposto lui, Darlan, ad ammutinarsi e a guidare la flotta intera in Gran Bretagna, in caso di armistizio, qualora le clausole armistiziali prevedano la consegna delle navi ai tedeschi. E' il motivo per cui a Compiegne, quando in quel famoso vagone ferroviario si ritrovano i pleni potenziali francesi e tedeschi per trattare la resa, non si parla assolutamente di consegna delle navi francesi. Gli accordi sono chiari, nonostante qualche ufficiale tedesco e anche qualche ammiraglio italiano vorrebbe metterle mani almeno su una parte della flotta francese. Niente da fare. Lo Stato francese, capitanato da Petain, ha già deciso della flotta, non se ne deve parlare. Ed è abbastanza strano che un conservatore come Petain e che un uomo di aperte simpatie fasciste come Laval confermino dopo l'armistizio un repubblicano socialista come Darlan al capo della marina. E' veramente strano. Eppure a Darlan viene riconosciuta una grande capacità, quella di essere seguito ai propri uomini, che effettivamente ne apprezzano la fermezza e anche le decisioni. E nonostante gli inglesi continuino ad esercitare pressioni affinché Darlan faccia una scelta di campo differente, lui resta ligio sulle proprie posizioni. Anzi, ribatte agli emissari britannici che in nessun caso lui permetterà che anche una sola nave francese, anche la più piccola e insignificante, venga consegnata a qualcun altro. Nessun cambio di bandiera. Quando gli viene comunicato che gli inglesi hanno optato per le maniere forti, per prendersi le navi nei propri porti, le navi francesi nei propri porti, e per distruggere la flotta Merse-el-Kabir, Darlan si dichiara stupefatto, scioccato, tradito dagli inglesi, al punto da dare parere favorevole qualora lo stato di Vichy volesse dichiarare guerra agli alleati. In quel caso l'impulsività di Darlan emerge fortissima e il maresciallo Pétain deve utilizzare tutta la sua diplomazia per calmarlo e per convincerlo che una soluzione politica, come ad esempio la rottura delle relazioni diplomatiche, fosse preferibile a uno scontro frontale che avrebbe visto molto probabilmente Vichy soccombere a causa dell'impossibilità di difendere il proprio impero coloniale. Darlan quindi da quel momento diventa non più un militare, un politico, al punto che il 10 febbraio del 41 viene nominato capo del governo al posto di Pierre-Etienne Flandin. Chiaramente non è proprio un ruolo cucito su misura per un uomo che fino a quel momento è stato un militare di carriera. Però è anche vero che nel governo di Vichy in quel momento c'erano altri tre ammiragli, Platon, Ophan ed Esteban, uomini che Darlan conosce bene, uomini che Darlan ha agevolato nella loro carriera e che in fin dei conti riesce a controllare. Da quel momento in avanti l'opera di Darlan diventa estremamente diplomatica. Lui stesso viene incaricato di incontrare Hitler a Berthesgaden in più occasioni, la prima nel maggio del 41, dopo lo scoppio della rivolta anti-britanica in Iraq che verrà soffocata nel sangue dagli inglesi. Temevano che l'Iraq potesse scivolare rapidamente da stato fantoccio a supporto dell'asse nella zona petrolifera del Medio Oriente. Successivamente Darlan assume, mantenendo la poltrona di primo ministro, anche l'incarico di ministro della difesa nazionale di Vichy. Insomma, riesce a coniugare al proprio interno tutti quanti i ruoli possibili che riguardano l'aspetto militare di ciò che resta delle forze armate francesi. Darlan deve anche far fronte alle rivolte in Libano e in Siria, dove i notabili locali premono per l'indipendenza e dove le forze inglesi interverranno proprio per soffocare questi tentativi indipendentisti e per riportare l'ordine, ma trasferendo il compito di governare alle forze gulliste. È un clima quasi di strisciante guerra civile. Una guerra civile non dichiarata tra i petenisti di Vichy e i gollisti, i seguaci di Charles de Gaulle. Darlan in tutto questo vive la sofferenza della Francia in prima persona, al punto che nell'aprile del 1942 si dimette a favore di Laval, che fino a quel momento aveva agito quasi dietro le quinte, da consigliere molto ascoltato da Petain, e che esce allo scoperto diventando primo ministro. C'è chi dice che sia stato Hitler in persona a suggerire a Petain di far fuori, politicamente parlando, Darlan, per rimpiazzarlo con un primo ministro esplicitamente filo tedesco, filo nazista, espressione della destra francese, la destra chiusa, che poggiava le sue radici su quell'antisemitismo di cui abbiamo già parlato per la Fard Refuse, e che continuava a macerare al proprio interno l'odio contro tutte le forze progressiste, repubblicane e socialiste della Repubblica. Darlan da quel momento comincia a tornare al suo vecchio ruolo militare. Viene istituito un comando supremo delle forze armate francesi, il cui comandante in capo è proprio Darlan, ma è sottoposto al controllo politico di Petain piuttosto che di Laval per dare una parvenza di istituzionalizzazione dell'intero comando, senza lasciar pensare ai tedeschi che Darlan potesse prendere autonomamente le redini delle forze armate francesi o di quello che restava di loro, anche a costo di fomentare una ribellione. Viene nominato François Darlan commissario per le colonie africane. È un incarico che Darlan accetta molto volentieri, prima di tutto perché può seguire il suo figlio, malato di poliomelite, trasferito in Africa settentrionale per una questione proprio di cure. Ad Algeri ci sono medici specialisti in poliomelite e il clima algerino pare favorire le cure proprio del figlio di Darlan. Quando il 9 novembre del 1942 gli alleati sbarcano a Casablanca e vivono le prime scaramucce con le truppe francesi fedele a Vichy, Darlan viene contattato da alcuni agenti alleati che gli propongono di trattare di non esacerbare il confronto armato, anzi, se è possibile di consigliare ai suoi sottoposti di metterci le armi e di lasciare che gli anglo-americani possano avanzare liberamente in Marocco e poi in Algeria. È quello che avviene in effetti, ma nel giro di 24 ore Petain capisce che Darlan forse ha cambiato sponda, che forse Darlan non è più affidabile. È il motivo per cui viene nominato Charles Noguè come nuovo alto commissario per l'Africa, mentre Darlan viene destituito ufficialmente. In realtà Darlan passa effettivamente dalla parte di De Gaulle, viene nominato dagli alleati alto commissario per l'Africa settentrionale, mentre Henri Giraud, vecchio nemico di De Gaulle, con cui lo stesso De Gaulle si scontra ad Algeria in un colloquio affatto gentile all'inizio, ma poi riappacificato dall'intervento di Winston Churchill, Henri Giraud diventa capo delle forze armate d'oltremare, l'armée de l'Afrique, e gli viene dunque il braccio destro dello stesso De Gaulle. Il regista di tutto questo cambio di fronte è Ike Eisenhower, il futuro padre dell'operazione Overlord e dello sbarco in Normandia, che si serve dei vari sentimenti di rivalità, e a volte anche di ambizione di carriera, dei vari ufficiali francesi, per non metterli l'uno contro l'altro, ma farli incannalare in un'unica via, quella che serve agli alleati, quella dell'appoggio alla causa alleata. D'Arlan tuttavia non gode di buona fama tra gli inglesi. Quelle parole pronunciate dopo Marcel Kebira, cioè la volontà di voler dichiarare guerra alla Gran Bretagna, non sono state dimenticate. Non solo. Lo stesso Charles de Gaulle lo vede come un potenziale rivale politico. Charles de Gaulle non nasconde le sue mire per diventare il capo riconosciuto della Francia, non solo libera, ma della Francia completa, una volta finito il conflitto. De Gaulle, secondo diversi storici, vede in Darlan un avversario politico, un nemico. E allora qui si apre l'ultimo capitolo che riguarda François Darlan, che vede sui propri occhi lo svolgersi dell'operazione Anthom e quell'autofondamento di Tolone, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente di questa miniserie. Darlan, nel dicembre del 1942, ormai è un uomo con pochissimo potere. E' ancora tenuto in considerazione da diversi suoi sottoposti, ma non ha comandi sotto di sé. Gli viene concesso di formare un gabinetto di governo per l'Algeria, ma è un gabinetto senza responsabilità e che dura poco. La vigilia di Natale del 1942, all'interno del palazzo di governo di Algeria, si muove un uomo, si chiama Fernand Bonnier de la Chapelle. E' un giovane militare, di fede monarchica. E' un seguace di Jean de Bourbon. pretendente al trono di Francia, ma il trono è stato abrogato ormai da tanti anni, dalla seconda rivoluzione, quella di Luigi Bonaparte. In Francia nessuno è disposto ad appoggiare un ritorno del re. Eppure de la Chapelle è entrato al palazzo del governo con una pistola carica, con un'idea, quella di uccidere l'alto rappresentante, di uccidere François d'Arlan. Chi ci riesce? Gli spara due colpi di pistola, dopodiché i gendarmi gli sono addosso, lo arrestano, lo traducono in carcere, la corte marziale è rapidissima, due giorni dopo, la Chapelle viene giustiziato da un plotone d'esecuzione. Ma perché uccidere François d'Arlan? Ormai era un uomo senza importanza, De Gaulle stava cercando di metterlo da parte, gli alleati non erano così propensi a cavalcarlo come cavallo vincente a livello politico per il dopoguerra. Oltretutto a Arlan ormai non interessava quasi più nulla della politica, cercava solo di preservare quel poco che era rimasto degli interessi francesi in Nord Africa ed era interessato alla salute dei suoi cari. Quindi perché ucciderlo? Chi è che ha armato veramente la mano del suo assassino? È stato forse Winston Churchill che voleva vendicarsi di quell'ammiraglio un po' riottoso che non aveva accettato le proposte capestro del giugno e luglio del 1940? O forse era stato De Gaulle per togliere di mezzo per sempre un rivale molto scomodo? O forse era stato Giraud per compiacere il proprio nuovo capo? O peggio ancora, per far ricadere su di lui la responsabilità di un omicidio del puro significato politico. Quello che è certo è che dopo la morte di Darlan fu proprio Giraud a prendere l'intero controllo dell'Algeria, per contro della Francia libera, certo, ma esautorando da quel momento in avanti tutti gli uomini di Darlan. François Darlan è morto in maniera tragica, come tragica è stata la sua vita e come tragica è stata la vita della Marine Nazionale che sarebbe ripartita nel dopoguerra con poche navi, sopravvissute al conflitto, ottenendo qualcosa in prestito dagli americani e dagli inglesi e dovendo rivedere in larga parte quella grandeur che noi tradizionalmente attribuiamo proprio ai nostri cugini d'oltre Alpe. La tragedia francese, una tragedia composta da rovesci bellici, da situazioni al limite, da uomini costretti a cambiare fronte, è una tragedia che abbiamo voluto raccontare attraverso episodi luttuosi, decisioni molto forti e la personalità di François Darlan. Un uomo che poteva essere l'anti de Gaulle, ma che non lo fu per tanti motivi. Un uomo che compì delle scelte discusse, ma precise, anche coerenti, e che ha pagato con la vita un'esistenza al servizio dello Stato francese, anche a costo, non solo della propria vita, ma della vita di tanti, tantissimi suoi sottoposti. Grazie per la visione!